buon pomeriggio sono michele leone e ti do il benvenuto su lexicon simbolorum questo pomeriggio ospitiamo marco mantuculotti per parlare del suo ultimo libro l'angelo dell'abisso edito dalle edizioni axis mondi prima di far arrivare marco ci tengo a dirti che lexicon simbolorum è un progetto di ricerca divulgazione formazione informazione sulle società segrete le tradizioni misteri e i simboli puoi sostenerci iscrivendoti al canale patrion di lexicon simbolorum e soprattutto se ci invia una mail a lexicon simbolorum chiocciolagmail.com ti inviamo tutte le informazioni per l'evento del 23 aprile prossimo venturo ovvero la lettura e il commento del de hominis dignitate di picco della mirandola evento che è quasi sold out quindi se ti interessa avere maggiori informazioni mandaci una mail dopo la sigla arriviamo con marco eccoci qui benvenuto marco ciao michele grazie dell'invito come sempre della dell'ospitalità e grazie a chiunque seguirà la diretta ma grazie a te per chi non lo conoscesse marco maculotti è un ricercatore è il fondatore di axis mondi è da pochissimo è diventata anche una casa editrice quello che presentiamo oggi è il primo libro il primo saggio di axis mondi quindi sono molto felice di eh essere qui ecco ve lo fa vedere perché sia il primo è il primo paperback perché per ora avevamo pubblicato eh il primo albo cartaceo l'anno scorso ad agosto e quindi questo è il primo paperback ovviamente io non ho la mia copia perché arriverà però farò un video io con il libro in mano perché al di là di essere un amico di marco io sono un lettore di axis mondi e vi consiglio trovate in descrizione il link ad axis mondi andate a leggere axis mondi perché fate delle gran belle letture marco l'angelo dell'abisso partiamo dal titolo per cui magari arrivare ad altre due tre mila domande che ho in mente bene bene sì allora il titolo eh deriva da un passaggio di apocalisse del libro della rivelazione di san giovanni evangelista eh in particolar modo è il versetto undici del capitolo nove eh in cui eh l'apertura del quinto sigillo appunto dell'apocalisse viene menzionato questo angelo dell'abisso e questo angelo dell'abisso che viene viene chiamato in in ebraico abaddon e appunto in in greco appollion così viene detto eh ora questo partendo dal titolo possiamo inquadrare innanzitutto questa eh denominazione che san giovanni evangelista dà di Apollo in connessione appunto con questo abisso che poi andremo bene a vedere di che si tratta eh a mio parere ovviamente che delle ricerche che ho fatto eh innanzitutto colleghiamoci subito al discorso Apollo San Michele perché come vedremo in questa diretta ci cercheremo di concentrare appunto su questa eh vicinanza funzionale divina luminosa tra eh l'Apollo dei greci eh e il suo omologo celtico Beleno Olug cioè queste divinità della luce pre cristiane eh e appunto San Michele che è l'arcangelo della luce arcangelo solare nella tradizione cristiana e cercheremo di vedere come eh con l'avvento del cristianesimo eh i siti sacri che un tempo nell'Europa pre cristiana eh non solo l'Europa in realtà perché ne troviamo anche in Anatolia in Asia minore e via dicendo comunque vedremo come questi siti che anticamente erano oracoli del dio della luce pre cristiano o meglio degli dei della luce pre cristiani eh vedremo come in età cristiana sono appunto stati collegati a San Michele appunto all'arcangelo Michele in quanto conduttore della ehm del del corteo divino diciamo così luminoso contro eh i demoni e contro eh le forze oscure diciamo così ehm io inizierei se se per te va bene allora a vedere mh perché abisso e perché la la linea sacra di San Michele la possiamo considerare proprio di sì anche perché sei partito in quarta non mi hai dato il tempo di farti la domanda su Apollo pensavo me l'avessi già fatto però no vabbè prego prego fammela pure così cerco di il secondo capitolo è il capitolo su Apollo quindi è vero che siamo partiti dall'abisso questa definizione di Giovanni ma Apollo eh come lo possiamo inquadrare eh nel senso proprio di portatore di luce e come poi Apollo si avvicina a Michele ed eventualmente la esattamente esattamente e e diciamo anche subito come eh in questi siti sacri a Polline che poi sono diventati micheliti eh ricorre sempre quella che gli storici della religione delle religioni chiamano una coincidenza oppositorum tra l'elemento eh assiale quindi verticale connesso al all'asse del mondo e quello invece abissale appunto eh Ctonio eh possiamo partire da Delphi che è il sito a Pollineo più noto chiaramente ehm Delphi come come ben si sa prima del presa di possesso a Pollinea e con la sconfitta del drago che viene chiamato il più delle volte Pitone però in realtà Caro Ricchiregni ha dimostrato come nei nei miti più antichi eh vi erano in realtà due draghi a Delphi eh e anzi quello che sarebbe stato sconfitto nel mito da da Apollo sarebbe una dragonessa femmina di nome del del fine da cui appunto deriva il nome di Delphi secondo alcuni studiosi eh secondo altri studiosi invece il nome di Delphi deriva da Delphis termine dell'antico greco che sta appunto per abisso grembo eh e quindi c'è questa idea già nel nome di Delphi eh di questo abisso Ctonio di questo abisso eh che in qualche modo è necessario per perché il sito diventi un oracolo a Pollineo questo può sembrare strano come abbiamo già anticipato perché Apollo viene visto innanzitutto come dio della luce e nel mito di Delphi appunto sconfigge o Pitone o Delfine una di questi di questi due draghi dragonesse e eh ovviamente questo drago dragonessa è il simbolo eh delle energie per così dire inferiori tonie che la divinità della luce deve sconfiggere per poter eh iniziare un nuovo ciclo per poter iniziare una nuova età dell'oro insomma questo è un mito che ricorre anche nel nel mito della nascita di Apollo a Delo eh precedentemente denominata Ortigia eh e questo mito per farla molto breve vediamo come alla nascita di Apollo questa isola viene trasfigurata completamente eh diventa interamente d'oro eh viene illuminata improvvisamente da una luce sovrannaturale divina quando prima invece era eh del tutto scura buia qui ci sono una serie di miti ricorrenti comunque anche nel mito di Delo vediamo che c'è un una coincidenza oppositorum tra l'elemento eh assiale verticale e quello appunto abissale eh e questo infatti è un altro tema che io tratto nel libro in un capitolo specifico eh sulle cosiddette isole atemporali del mito greco e celtico cioè quelle isole come per esempio l'iperborea Apollinea eh che vengono vissi come degli extra mondi dei mondi extra cosmici eh che in cui il tempo non scorre normalmente come nel resto della manifestazione ciclica però adesso ritorniamo alla linea sacra Apollinea e cerchiamo di vedere un po' in dettaglio i siti che ci sono ubicati su questa linea e vediamo anche perché si ricollega l'apocalisse di Giovanni eh innanzitutto partiamo da quella che oggi viene denominata la linea sacra di San Michele la linea sacra Michelita o Micaelica eh noi sappiamo che l'intera Europa giù fino all'Asia minore e ehm si vede sulla mappa questa linea che che eh attraversa l'intera Europa dal dall'Irlanda da Skellig Micael che è il sito più elevato eh sito Michelita appunto eh mi hanno suonato la porta scusa un secondo il bello della diretta arriva subito Marco nel frattempo eh mi ha portato per fare un po' di spot se questi video ti piacciono iscriviti al canale ecco subito tornato Marco scusate allora eh partiamo dalla dall'area celtica diciamo di questa linea di San Michele se noi studiamo i siti che sono appunto ubicati su questa linea di San Michele quelli più elevati quelli più settentrionali occidentali eh sono quei siti che se andiamo a studiare erano sacri al dio della luce celtico cioè a Lug eh denominazione che noi troviamo sia in Irlanda che anche nel continente cioè in Francia eh a Beleno che è un nome che troviamo soprattutto ehm al di qua delle Alpi cioè nel nell'Italia settentrionale eh bisogna subito mettere in risalto eh il radicale proto-indoeuropeo da cui deriva il nome di Beleno e della sua Paredra la dea della luce Belisama eh che noi poi troviamo nei festeggiamenti delle feste principali del calendario celtico Beltane per esempio il primo maggio già dal nome deriva appunto da Bel da questa radicale e proto-indoeuropeo legato alla luce alla luminosità allo splendore è molto interessante il fatto che eh il sito più meridionale che noi troviamo su questa linea sacra eh che si trova sul monte Carmelo eh in Medio Oriente Palestina eh e anti era anticamente conosciuto come un sito sacro al dio Baal cioè al dio medio orientale anche qui eh della luce anche se poi in realtà in epoca storica il dio Baal viene eh connesso a Moloch come dio del tempo dio del tempo divoratore soprattutto e questa è una caratteristica piuttosto curiosa che però tuttavia troviamo anche in ambito greco dove spesso Apollo e Saturno Cronos eh in qualcosa si eh si collegano in un certo senso per esempio l'isola di Ogigia in cui Saturno dio dell'età dell'oro ehm vive in questo stato di vita nella morte aspettando il ritorno dell'età dell'oro a molti collegamenti con l'iperbore appunto di Apollo eh ritornando però alla linea sacra di San Michele se noi andiamo a studiare i siti di Mont Saint Michel eh in in Francia in Normandia eh e quello di eh eh Mount Saint Michel Mount che è praticamente dall'altra parte della Manica in Inghilterra innanzitutto già dal nome vediamo che si tratta di un sito sacro estremamente simile eh se avete presente come è fatto sia eh Mont Saint Michel che è San Michel Mount vediamo che c'è un'isola eh e sopra quest'isola c'è appunto questo questa roccaforte che è sacra San Michele che appunto ha un elemento di verticalità e quindi anche qui troviamo l'elemento di verticalità di assialità su un abisso che appunto è questo oceano che sta sotto all'isola c'è sempre in questi siti a Pollini e in Micheliti come abbiamo visto un collegamento eh di eh elemento verticale ed elemento abissale tanto è vero che in tutti i siti sacri a San Michele anche quelli italiani come la sacra di San Michele in Val di Susa in Piemonte o eh quella eh di San Michele Arcangelo nel l'altopiano del Gargano in Puglia eh vediamo che il il culto Michelita si è diffuso sì sulle vette delle montagne però anche c'è un elemento ctonio abissale il culto si svolge sempre in una grotta in cui anche in epoca cristiana i eh fedeli eh giungono per chiedere la grazia a San Michele e appunto per connettersi spiritualmente con l'arcangelo devono eh seguire un sistema ben preciso di regole eh e di preparazione all'esperienza mistica che sono le stesse che seguivano gli iatromanti antichi per entrare in contatto con Apollo anticamente nei siti appunto sacri a Pollinei e non solo anche per entrare in contatto con quei daimones cioè quegli spiriti immortali che si pensava vivessero in questa in questa dimensione altra diciamo così nell'antica Grecia questi daimones questi spiriti oracolari che venivano eh interrogati tramite la pratica dell'incubazio cioè appunto di cercare la connessione con il divino con questi daimones oracolari eh tramite appunto eh il queste pratiche sciamaniche incentrate appunto sull'incubazione cioè ehm passare del tempo sottoterra eh senza fare uso di ehm cibo e bevande eccetera è una pratica che noi troviamo anche in epoca pitagorica per esempio o addirittura precedentemente eh noi sappiamo che per esempio Empedocle eh o altri iatromanti facevano uso appunto di queste pratiche ctoni e abissali per così dire per entrare in contatto con Apollo eh e se noi studiamo appunto i siti su questa linea sacra eh vediamo che effettivamente anticamente in epoca pre cristiana erano i siti sacri del dio della luce abbiamo già nominato il monte Carmelo dove era sacro Bal abbiamo già nominato eh Mont Saint Michel in Normandia che precedentemente si chiamava la tomba di Beleno quindi anche qui vediamo che c'è quell'elemento eh tombale ma diciamo quindi anche di vita nella morte come Saturna o Gigia anche Beleno era considerato una sorta eh di dio morto in uno stato di di coma appunto che attendeva di ritornare questo è un elemento che noi troviamo in vari siti a Polline in cui Apollo viene appunto considerato come Saturno eh il dio dell'età dell'oro che attende il suo ritorno eh questo è molto interessante perché in ambito eh se noi studiamo l'Apocalisse di Giovanni eh noi studiamo l'escatologia che noi possiamo ricavare dall'Apocalisse di Giovanni vediamo che l'angelo dell'abisso viene collegato appunto eh oltre che a San Michele ad Apollo ad Apollo appunto eh e addirittura i testimoni di Giovanni si spingono oltre eh e dicono che questo angelo dell'abisso oltre che essere Apollo e San Michele è lo stesso Gesù Cristo della seconda venuta eh magari su questo ci torneremo poi più avanti perché è un argomento un po' a parte eh volevo dire scusami se ti interrompo perché eh vai vai preso questo argomento eh poi ci dici anche qualcosa sugli oracoli Sibillini magari sì sì volentieri non ricordo male sono nello stesso capitolo sì sì sono nel quinto capitolo insieme e vuoi che ne parliamo adesso quindi degli oracoli Sibillini ok allora finisco un attimo la linea di San Michele e poi passiamo agli oracoli Sibillini eh un altro elemento che noi troviamo sulla nei nei siti sacri ubicati sulla linea di San Michele è il rimando a un gigante che precedentemente eh avrebbe occupato il sito i siti anzi perché si parla sia del sito pugliese che abbiamo detto eh sull'alto piano del Gargano sia eh Mont Saint Michel appunto in Normandia questo gigante che precedentemente governava questo sito sacro prima della venuta di San Michele che noi possiamo quindi ehm paragonare eh rispettivamente ad Apollo e al Drago nei miti precedenti nei miti per cristiani questo gigante a nome Gargan o Gargano e noi troviamo lo stesso nome appunto sia nell'altipiano pugliese che in questo gigante Bovaro eh che eh avrebbe curato queste mandrie divine del sole presso eh Mont Saint Michel in Normandia eh questo è un mito estremamente interessante perché ci porta con la mente al mito di Gerione. Gerione era un gigante che secondo la mitologia greca appunto era il il Bovaro che curava le armenti del sole in questa isola estremo occidentale che eh si può collegare facilmente a tutte queste isole mitiche che nel mito vengono connesse appunto prima ad Apollo e poi a tutti questi daimon es beati o eroi che eh sopravvivono in questa dimensione eh eterna in cui non invecchiano eh e questa dimensione sono sempre delle isole ubicate nell'estremo occidente o nell'estremo settentrione se vanno in qualche modo connessi a questi eh centri sulla linea sacra Apollini amicalita o belenica come la si voglia chiamare eh e appunto sembra che i rituali che venivano operati nei centri sacri di questa linea servissero in qualche modo all'operatore sacro a raggiungere questo mondo eh extra cosmico sottile che appunto era ubicato al di là dello spazio-tempo potremmo dire Juliano nel suo noto libro d'inizio anni 90 eh i viaggi dell'anima eh paragona questi extra mondi cosmici della delle tradizioni sacre antiche alla quarta dimensione addirittura facendo eh un paragone con la fisica moderna e più più avanzata diciamo così quindi secondo me è anche interessante cercare di eh studiare i miti antichi anche sotto un punto di vista che si possa connettere agli studi più avanzati della fisica odierna come hanno fatto poi e altri studiosi il tau della fisica mi viene in mente e via dicendo ehm passiamo allora agli oracoli studi simili cosa dice io voglio dire con te è è sempre una battaglia perché se in piena riesci essere più veloce di me delle volte è perché sei proprio dotato e questa è una cosa bella con Marco non ci si può annoiare perché tanto tu gli dici mi parleresti di questo e lui è già andato avanti nei millenni eh beh il discorso ecco sono tutti argomenti ovviamente collegati tra loro anche se io cerco di dividere di capitolo per capitolo poi ovviamente tutti questi capitoli si intrecciano in maniera molto ma sì e diciamo che chiaramente andrebbe scritto tutto di getto quasi come l'ulisse di Joyce senza punti e senza virgole poi per dare un come dire una forma coerente per mettere il lettore come me che ignora molti argomenti una divisione per capitoli sicuramente è stata una di una scelta saggia e soprattutto per un testo corposo perché stiamo parlando di un testo di tante pagine anzi io eh sì sono 384 facciamo un piccolo spazio pubblicità facci rivedere il libro anche il dorso quanto è doppio allora questo è il libro il dorso sono 384 pagine di cui 360 di saggio effettivo ovviamente un numero non scelto a caso ma c'entra con la circolarità anche degli argomenti trattati e quindi beh insomma un lavoro direi molto vasto impegnativo perché ti ha occupato per quasi tre anni che oggi cerchiamo di presentare appunto in questo in questo argomento che c'entra con la linea sacra di san michele che poi in realtà è uno dei tanti argomenti che vengono trattati nel libro prima di passare agli oracoli sibillini però volevo collegare anche all'apocalisse che poi ritorneremo ad analizzare perché l'apocalisse perché san giovanni evangelista si collega alla linea sacra michelita perché questa linea sacra michelita o apollina che dir si voglia scendendo appunto dai siti che abbiamo già visto scendendo verso il medio oriente noi troviamo eh nel mediterraneo i siti nell'antica grecia cioè delfi delo la stessa atene in cui vi era eh questo santuario di agrai antichissimo un santuario appollino eh sotterraneo la cui fondazione addirittura venne prima dell'acropoli quindi era veramente antichissimo su questa linea sacra troviamo anche l'isola di rodi che era considerata l'isola sacra d'apollo in quanto dio del sole e se noi scendiamo ancora su questa linea vediamo che l'isola di patmos eh in cui appunto san giovanni evangelista scrisse mentre in esilio l'apocalisse eh non è proprio sulla linea sacra di apollo e di san michele però ci passa estremamente vicino è questione di pochi chilometri e bisogna mettere in risalto come san giovanni evangelista ha scritto l'apocalisse in una condizione eh rituale di incubazio cioè eh in questa grotta in questo ambiente tipico degli iatromanti eh questo è proprio quell'ambiente in cui gli iatromanti greci apolline cercavano la visione del dio quindi è molto interessante secondo me questa eh questo collegamento da fare perché effettivamente uno si può chiedere ma perché mai Apollo viene citato nell'apocalisse di Giovanni è una cosa un po' bizzarra ora se noi andiamo a studiare tutto quell'insieme di testi che a noi ci è arrivato con il nome di oracoli sibillini che anticamente erano dodici libri ehm anticamente si parla ovviamente dell'epoca romana anche se i libri sibillini sono precedenti ai romani sono eh già conosciuti dagli etruschi che secondo il mito appunto eh questa sibilla etrusca le avrebbe venduto appunto ai a Numa Pompidio se non ricordo male eh sta di fatto che in questi oracoli sibillini che a noi sono arrivati interpolati ovviamente eh dalle interpretazioni eh prima eh cristiane eh di ambito greco e poi eh di ambito giudaico successivamente noi vediamo che eh il dio Apollo che era il dio che ispirava le sibille le sibille erano delle veggenti che eh vivevano in determinati centri sacri eh come appunto Delphi che si trova sulla linea sacra appollinea e che appunto avevano questa capacità di predire eh il futuro e eh appunto eh facendosi possedere dal dio da Apollo eh perché è interessante allora Apollo nel il ruolo di Apollo negli oracoli sibillini e il ruolo di Apollion come angelo dell'abisso nell'apocalisse di Giovanni sono strettamente connessi in realtà perché se noi andiamo a studiare eh i libri sibillini che ci sono arrivati eh anche se ovviamente il nome del dio non è riportato perché ci sono state molte interpolazioni cristiane giudaiche eh noi vediamo che il dio viene descritto seguendo una serie di topoi che ricalca perfettamente i topoi appunto eh che noi troviamo nei testi antichi eh delle sibille che parlano appunto della possessione di Apollo Apollo viene connesso sempre al fuoco e infatti per esempio a Delphi c'era questo fuoco sacro che veniva portato nei quattro angoli del Mediterraneo per fondare le città e via dicendo Apollo viene sempre connesso al fuoco anche quando possiede le sibille eh viene appunto descritto come una 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 folgore o una fiamma che possiede ehm la sibilla o l'operatore sciamanico e altro mantico eh e qua io nel libro faccio diversi collegamenti appunto con le pratiche sciamaniche asiatiche o amerindie in cui appunto la possessione da parte della divinità viene descritta appunto eh alla stregua di un di una fiamma di una folgore via dicendo eh negli oracoli sibillini in particolar modo il ruolo di Apollo legato al fuoco è quello del distruttore del distruttore del mondo alla fine del ciclo cosmico il nome ad Apollo viene appunto da quel verbo greco che significa distruggere un'etimologia che mise già in luce il mitico Giorgio Colli a cui io mi sono eh ho ripreso vari su varie sue opere sulla sapienza greca perché io considero eh un autore imprescindibile. Giorgio Colli va a letto anzi adesso faccio subito un banner leggete Giorgio Colli. Assolutamente sì è un autore imprescindibile Giorgio Colli e eh questo questo ehm cos'è che stavano dicendo del scusami del nome di Apollo questo ruolo che ha Apollo di distruttore eh del del mondo alla fine del ciclo cosmico che noi troviamo eh ripetutamente nei dodici libri degli oracoli sibillini si può mettere in connessione con tutte quelle tradizioni antiche eh al tempo stesso apocalittiche ed escatologiche e soteriologiche eh che noi troviamo in tutte le tradizioni indoeuropee per esempio si può mettere in collegamento con il calchi degli induisti con il Maitreya che è l'ultimo avatar di Buddha per i buddhisti e si può mettere in risalto con il mitra eh della escatologia indoeiranica e soprattutto con il Surtr eh della tradizione norrena del Ragnarok norreno cioè il crepuscolo degli dei Surtr viene considerato questa divinità ancestrale primordiale che con il suo fuoco alla fine del ciclo cosmico distruggerà l'intera creazione rendendone possibile una rinascita eh una nuova età dell'oro praticamente ora studiando tutti questi antichi si può tutti questi testi antichi si può notare come eh Apollo in questo suo ruolo di distruttore del ciclo cosmico attraverso il fuoco e anche tutte queste altre divinità sono al tempo stesso sia i distruttori appunto ma anche i salvatori eh il latino Soter eh ora questa denominazione interessante innanzitutto si è connessa a Surtr già l'assonanza con questo dio eh della tradizione norrena ma anche se messa in relazione con la denominazione di Saturno nella tradizione latina di Sator cioè di seminatore questo è un eh un tema molto affascinante perché è come se nella tradizione mediterranea latina eh il questa divinità primordiale si fondesse in due eh funzioni che appunto la prima è quella di seminatore all'inizio del ciclo cosmico eh Saturno appunto il dio seminatore il dio dell'età dell'oro che all'inizio del ciclo cosmico eh pianta i semi da cui poi nascerà tutto eh tutta la manifestazione cosmica e poi alla fine del ciclo cosmico Apollo in ruolo di nel ruolo di Soter cioè di Salvatore eh questo argomento è molto interessante appunto si è connesso anche all'apocalisse di Giovanni in cui questo angelo dell'abisso anche se è stato è stato considerato da eh molti studiosi erroneamente come una sorta di potenza demoniaca perché apre eh appunto l'abisso tramite l'apertura del quinto sigillo in realtà se noi leggiamo bene l'apocalisse viene detto che è al eh che combatte insomma dalla parte del del Cristo della seconda venuta ragion per cui i testimoni di Geova e altri eh e altre confraternite cristiane hanno connesso appunto questa figura a San Michele San Michele in quanto conduttore eh del della 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 battaglia finale del della luce contro l'oscurità eh e quindi anche i iconograficamente l'arcangelo Michele in queste eh rappresentazioni appunto connesse all'apocalisse si vede che sconfigge eh Lucifero eh o Satana sotto forma o fidica vediamo che questa rappresentazione ovviamente riprende quella eh del pitone o delfine eh sconfitte da da Apollo nel mito di presa di eh di Delfi eh ora però bisogna mettere in risalto come la la figura di Lucifero appunto che noi troviamo in ambito apocalittico come avversario di Milchile Arcangelo eh e quindi anche di San Michele di anche di Apollo noi possiamo dire eh ricorre anche in qualche modo in nel passaggio dell'apocalisse giovanea che abbiamo già citato perché ehm nel capitolo nove versetto uno viene detto che all'apertura del quinto sigillo l'angelo dell'abisso cioè Apollion eh farà cadere una stella dal cielo e sarà questa stella che cade dal cielo che aprirà l'abisso eh questo Abadon come viene chiamato nella tradizione eh ebraica che anche se viene tradotto spesso nelle traduzioni greche dell'apocalisse come Ade in realtà eh è una traduzione errata bisognerebbe tradurlo come Tartaro quindi eh questa questo oltremondo della tradizione eh greca in cui erano stati chiusi i titani e quindi anche Saturno in quanto dio dell'età dell'oro questo è molto molto importante da sottolineare perché l'abisso non è l'Ade è una cosa completamente diversa e diversi studiosi tra cui Alain Ballabriga hanno appunto sottolineato come questo Tartaro questo abisso ehm della tradizione greca eh nei miti più antichi sembra anticipare addirittura il caos da cui inizia l'intera creazione quindi sarebbe veramente un oltremondo al di fuori di tutta la manifestazione cosmica che in qualche modo alla fine del del ciclo cosmico avrebbe riassorbito nelle sue fiamme l'intera creazione vediamo che il mito è molto simile sia al mito di Surtr nel Raganarok del tradizione nordica scandinava ma è anche estremamente simile eh alle profezie sibilline sul fatto che Apollo alla fine dei tempi brucerà l'intero cosmo manifestato riportando tutta la creazione eh alla fonte originaria ecco sì questo è assolutamente interessante visto che il tempo è tiranno io avrei un milione di domande da farti dalla navigazione di San Brandano eh sì a al Drago eh Merlino e il Castello di Vetro eh beh ti sei letto un po' il pdf allora vedo eh beh vuoi che un appassionato lettore un tuo fan non abbia sfogliato quindi visto che parlavamo di draghi di mondi magici eh due parole su Merlino e il Castello di Vetro sì facciamo un appunto anche appunto sulla tradizione arturiana il ciclo arturiano appunto eh nasce in quelle stesse aree che anticamente erano sacre a Beleno e a Lug come divinità della luce celtico se noi andiamo a studiare i miti che reggono il ciclo arturiano noi troviamo una serie di topoi eh che eh io nel libro connetto appunto al mito Apolline o al mito Iperbodi e via dicendo eh innanzitutto eh la simbologia di Re Artù che appunto è questo eh re eh Rex eh che fu re un tempo e che che sarà re in futuro viene scritto nell'epitaffio di una delle sue tombe quella in Cornovaglia eh vediamo che il mito è lo stesso del Dio Saturno come Dio dell'età dell'oro che appunto tornerà a governare quando eh la ehm il cielo le costellazioni ritorneranno al punto in cui erano nell'età dell'oro è un mito estremamente simile a quello di Saturno che dimora su questa isola temporale di Ogigia appunto aspettando la fine dei tempi in questa caverna dorata eh ora se noi andiamo a studiare il mito di Artù vediamo che eh troviamo esattamente lo stesso mito lo stesso topos sull'isola di Avalon che è questa ennesima isola temporale che già autori come Evola e Cullianu collegarono all'Iperborea Apollinea in quanto Apollo e Avalon sono nomi strettamente connessi dalla eh forma Avalo da cui poi il moderno anglosassone Apple come mela qui ci sarebbe da fare un discorso un po' complesso cerco di ridurlo al minimo eh queste mele dorate che nella tradizione greca noi troviamo nel giardino delle Speridi che è un altro di questi eh oltremondi cosmici che noi troviamo appunto eh agli estremi del mondo agli estremi occidentali del mondo eh in questo giardino delle Speridi noi troviamo una serie di topoi eh che appunto sono quello del giardino temporale del dell'albero cosmico con le mele dorate eh del drago che fa da guardiano della soglia a queste mele ora noi troviamo tutti questi topoi anche nel mito arturiano infatti eh il nome di Artù eh deriva da quello del dell'orso Artù che appunto da cui poi deriva anche il polo eh il nome Artù poi deriva anche il polo artico ovviamente e eh il nome di Artù va visto appunto in connessione con la costellazione dell'orsa maggiore del Carlo dell'orsa il padre di Artù invece Pentragon eh nel suo nome esprime eh la costellazione del drago Alfa Dragonis soprattutto che era l'antica stella polare quindi vediamo che nel mito arturiano c'è un passaggio dal drago all'orso e questo ovviamente eh si può mettere in connessione con la caduta di questa stella polare primordiale quindi la caduta anche degli angeli ribelli di Lucifero insomma c'è un discorso lunghissimo da fare comunque i topoi ricorrenti sono sempre gli stessi l'albero cosmico le mele d'oro il guardiano di questo albero cosmico che è appunto a forma ofidica perché richiama appunto la costellazione del drago e Alfa Dragonis come eh stella polare primordiale eh nel mito arturiano Merlino eh viene oltre al fatto di Artù che eh dimora in questo stato di vita nella morte sull'isola temporale di Avalon troviamo lo stesso mito con il mago Merlino Merlino è un'altra di quelle figure archetipiche eh che ricalca questo eh dio mago il dio mago terribile come lo chiamava anche Dumezil che eh si può connettere sia a Saturno sia ad Apollo in quanto eh il dio della profezia eh Apollo era considerato degli antichi greci il dio pericoloso per eccellenza eh era era considerato pericoloso entrare in contatto con Apollo in quanto Apollo era come dice appunto Giorgio Colli la personificazione della follia mitica della follia magica e della follia eh anche in qualche modo religiosa però religiosa in un senso pre cristiano chiaramente il misterium tremendum di cui parlò eh Rudolf Otto e quindi allora non ci sorprende se eh in tema eh apocalittico ed escatologico soteriologico eh nelle tradizioni pre cristiane questa eh divinità appunto del sole del sole della luce ma anche del fuoco che alla fine dei tempi avrebbe distrutto l'intera creazione e al tempo stesso il dio salvatore il dio soter ma al tempo stesso è anche il dio eh distruttore appunto Apollo deriva il nome di Apollo deriva in primo luogo dal verbo appunto distruggere eh e poi in in questa visione mitica eh escatologica non c'è una eh un controsenso nel nella tradizione antica differentemente dalla tradizione cristiana che come abbiamo visto eh in qualche modo eh San Giovanni Evangelista ha dei problemi a parlare di questo angelo dell'abisso e però di mettere anche in risalto il fatto che sia eh il combattente per le forze del bene insomma è molto complicato quando eh queste profezie questi testi antichi soteriologici vengono portati nell'ambito cristiano eh è molto difficile eh mantenere questa eh questo duplice ambito di questo dio eh al tempo stesso distruttore e salvatore eh però se noi andiamo a studiare gli oracoli Sibillini ma anche per esempio i Purana degli induisti vediamo che anche il Kalki che è poi l'ultimo avatar di Vishnu eh oppure il Maitreya dei buddhisti eh anche queste figure appunto mitiche delle altre tradizioni eh prevedono questo duplice questa duplice funzione di questo dio al tempo stesso distruttore e salvatore. Perfetto. Adesso purtroppo io ti devo interrompere perché il tempo è tiranno e non ce ne faremo mai una ragione. Vorrei dire che tornerai a parlarci delle prossime trenta pagine un'altra volta. Facciamo trenta pagine una volta. E tutti gli amici di Lexicon Simbolorum facciamo un enorme in bocca al lupo al tuo libro ma soprattutto alla casa editrice che è stata in gestazione a lungo è stata sofferta ricordo una nostra chiacchierata in un castello d'estate quando stavi ipotizzando di fare certe cose quindi il nostro più grande augurio di mercoledì che come vedi alle mie spalle il giorno di Mercurio e ti auguriamo che Mercurio possa essere sempre ridente nei tuoi confronti. Per tutti voi se vi piace Lexicon Simbolorum ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti. Se volete invece ricevere degli approfondimenti e delle dispense abbonatevi al nostro canale su Patreon Lexicon Simbolorum. Grazie a tutti e buona serata. Grazie e buona serata.